Questo vuole salire, sì sì, perché io ti lascio salire, vero? Perché io sono stupido Oh mio Dio ragazzi, ma perché funziona al 100%? Io non capisco Perché sono così stupidi da cascarci al 100% e funziona sempre Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video Delle trappole negli Skywars Oggi ragazzi ho creato un'invenzione pazzesca C'è un modo per vincere tutte quante le Skywars che volete Lasciate un bel mi piace se siete eccitati all'idea Mettetevi comodi e guardatevi il video Oggi cercheremo di fare una Skybase nelle Skywars Nessuno credo ha mai provato a fare una cosa del genere Perché non ha senso fare una Skybase nelle Skywars Però voglio vedere che cosa succede ragazzi Se creiamo una bellissima Skybase lunghissima e lontanissima dalla mia isola Qua nelle Skywars Non abbiamo tantissimi materiali purtroppo Quindi iniziamo ad utilizzare questi 16 di glass Questi 16 di vetro in modo intelligente Quindi così, poi saliamo qua Andiamo qui, questo lo posso piazzare qua Uh posso ragazzi, guardate come diventa invisibile Oh Iniziamo ad allontanarci dalla nostra isola madre Praticamente dall'isola che ci ha fatto sponare E iniziamo a salire su in questo modo Ragazzi, secondo me sarà una figata pazzesca Cosa? Cosa cavolo sta succedendo? Sto volando Oh mio dio ragazzi, i blocchi diventano invisibili dopo un po' Ah no, era solo un bug Era convinto che i blocchi dopo un po' diventassero invisibili Ok, continuiamo in questo modo ragazzi Già siamo molto molto lontani dal resto della ciurma E dobbiamo adesso rompere questi blocchi qua Perché non voglio che nessuno si avvicini Quindi passo per passo iniziamo a rompere tutto quanto in questo modo Ottimo E se qualcuno prova ad avvicinarsi ragazzi gli rompiamo tutto quanto In ben che non si dica Questo deve andare via pure E iniziamo a costruire la nostra bella casetta in Canada Oh, guardate che bellina La nostra casetta ragazzi E o non è una casetta magnifica e bellissima E non posso piazzare i blocchi qua perché siamo troppo lontano Va bene, allora lo piazzo qua Non ti preoccupare server Non c'è bisogno che mi castighi e che mi punisci eh Non c'è proprio bisogno Allora, così, 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 così E così Perfetto Adesso siamo praticamente più o meno coperti Io mi vorrei fare però Uh, abbiamo altri blocchi cavolo Non me ne ero mica accorto Allora copriamo tutto quanto completamente In questo modo qua non lo posso piazzare Perché è buggato Deve per forza venire qua ragazzi E se ci viene Secondo me riesco a ucciderlo proprio in man che non si dica Intanto io ci apriamo una bella pozione Da tirare lì addosso Allora, dove si trova? Eccolo, lo guardate Lo vedete ragazzi? Lo vedete? È là sotto Riuscite a vederlo? Sì, lo vedete adesso Vediamo cosa succede ragazzi Vediamo che cosa succede Oh mio Dio Non sto più nella pelle Non vedo l'ora che arriva qua Dai, su, vieni Vieni, dai Sta cercando di frecciarmi ragazzi Lo vedete là sotto? Sì, sì, sì È là sotto Qua ci posso stare? O mi butta giù il server? No, non mi butta giù Ok Mi stava cercando di frecciare ragazzi Eccolo Guardatelo lui Guardatelo Sì, 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 sì Perché io ti lascio venire Vero? Perché io ti lascio venire Sì, sì Non ti butto giù Non ti butto giù appena ti avvicini Vero? Ok, guardatelo, guardatelo Vuole iniziare a venire Vuole iniziare a venire Secondo me vinco al 100% E non ho fatto niente in questa partita Non ho fatto proprio niente No, che fa? Guardatelo, è furbo Vuole cercare di frecciarmi Io non ci sono Non c'è nessuno a casa Ehi Riprovi più tardi magari Vi dico che io che se lo piglio con la cannola pesca Questo cade giù Ah, mo hai paura Mo c'hai paura, eh Mo ce l'hai la paura Te la stai facendo sotto Di la verità, eh Non vuoi più venire Non sei più così confidente come eri prima Dai, su Vieni, vieni, vieni Ci pensa Kendall a te Ci pensa lo zio Kendall Ti fa, ti fa le feste Eccolo, eccolo No È caduto È caduto Ho vinto senza fare niente Non ci voglio credere Oh mio dio Sembrerebbe che la nostra tattica funzioni Al 100% Voglio vedere se anche in questa mappa funzioni E ovviamente ragazzi Sapete bene Che io sto facendo questo soltanto per il video Quindi per farvelo vedere a voi in video Perché odio chi campera E non campererei mai tutto quel tempo In uno Skywars vero È semplicemente per farvi vedere Per intrattenervi Per farvi vedere appunto Cosa succede Se provi a farti una Skybase Nelle Skywars Il che dicevo È un paradosso Perché Skybase Nelle Skywars Cioè tu già sei in una Skybase Questa è una Skybase È una base nel cielo Una base volante E immaginate Cioè è pazzesco no? E infatti sono riuscito a vincere pure quella partita Allora, allora Dobbiamo conservare i blocchi Perché non abbiamo tantissimi E dobbiamo riuscire a fare la Skybase adesso qua Esatto Perché io lo voglio fare lontanissimo Dal centro Se quello non mi viene ad attaccare Adesso mi fa un favore Per favore Puoi evitare Guardate i blocchi diventano invisibili dopo un po' Quelli adesso saranno pensando che io sto volando Per forza Per forza devono pensare che sto volando Perché non si vedono mica i blocchi Adesso questa Skybase è già abbastanza lontana Dal centro Possiamo iniziare a costruire la nostra piattaforma In questo modo Perfetto E facciamo così adesso No, no, no Mi vogliono buttare giù ragazzi Mi vogliono buttare giù Oh mio dio No, 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 no Non te lo posso permettere Non te lo posso permettere Ok Ci siamo piazzati dei blocchi dietro Così adesso non mi può buttare più giù nessuno Ottimo Ora facciamo così Così Questo vuole salire Sì, sì Perché io ti lascio salire Vero? Perché io sono stupido Oh mio dio ragazzi Ma perché funziona al 100% Io non capisco Perché sono così stupidi da cascarci al 100% E funziona sempre Non ci voglio credere Raga Non ci voglio Guardate quest'altro Guardate quest'altro Guardate quest'altro Che è tutto convinto Che lui è tutto convinto Che io lo lascio salire Sì, sì Perché tu ora sali Perché tu ora sali Secondo te, vero? Ma poi non prenderò Ma vai giù Vai giù Vai giù Ah, ora Ora che hai due cuori scappi Ora che hai due cuori scappi Raga Funziona Funziona fare questa skybase In questo modo Funziona al 100% Cioè nessuno Può salire qua sopra A ucciderti Perché li uccidi prima tu Li uccidi prima tu Ecco com'è Allora rompiamo qui adesso Perfetto Così loro poi devono farsi la scala Eh, sì, sì Ora James Ti voglio vedere Come sali qua Voglio proprio vederlo Adesso come fai a salire Chiudiamo tutto quanto in questo modo Abbelliamo la nostra casetta Sapete così Io mi farei una porta Quasi quasi Ma sì dai facciamoci una bella porta Così la nostra Così la nostra casetta è bella pronta E allora Facciamo così Pa 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 Perfetto E mettiamo la porta esattamente qua Oh Oh mio Dio è invisibile Oh mio Dio ragazzi La porta è invisibile È invisibile Lui non lo sa ragazzi La porta è invisibile E lui non ne ha la minima idea Oh mio Dio ragazzi Qua c'è una porta invisibile Era invisibile Non è più invisibile Va bene Ciao Dai Venimi a prendere Vieni qui Sto saltando Ehi James Ciao 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 Oh mio Dio Vi immaginate Mi prende mentre sono in aria E mi fa volare dall'altra parte della mappa Sarebbe troppo fantastico Dai Mancano 40 secondi all'altore fill Io non credo che sarà per altri 40 secondi Qua a frecciarmi Dai A un certo punto si dovrà dare una mossa Credo Giusto Ma che fa Ma è scemo Ma è scemo Ma non fa niente così Non fa niente Mi ha soltanto aiutato Perché si è rotto da solo il ponte Mi ha solo Che idiota Si è rotto da solo il ponte Oh mio Dio Vuole fare un cannone Sì ma non ce la fai James Fai schifo con i cannoni Senza offesa eh Non ti offendere adesso Ma non li sai fare proprio Oddio C'è un enderpearl Oddio adesso c'è un enderpearl Secondo me la faila di brutto Secondo me questa enderpearl La faila di brutto Quindi gli devo tappare tutte le entrate Così la faila al 100% Oh l'ha failata Sì Lo sapevo Lo sapevo E siamo a due di due Abbiamo appena scoperto il segreto Per vincere tutte quante le skywars Senza mai fallire Ragazzi vi giuro Che se mi avessero Che ne so Intervistato Un mese fa O anche fino a ieri Dicendomi Salve signor Kendall Penso che potrebbe vincere uno skywars Stando camperato E basta tutto il tempo Io avrei risposto Al 100% No E' impossibile Come fai a perdere una partita Contro uno che è camperato E che non ti si sta proprio calcolando Di niente Che proprio non ti sta nemmeno guardando negli occhi Avrei risposto al 100% Che è impossibile Perché veramente Credo Credevo fosse impossibile Invece no ragazzi Evidentemente questa è la tattica migliore Per vincere uno skywars Essere uno schifoso Camperato In una skybase diversa dalla tua isola Quindi non devi stare là ovviamente Perché sarebbe troppo scontato Stare nella tua isola Ma se stai in una skybers diversa Quindi te ne crei una tu Evidentemente ragazzi Funziona Guardate Guarda quello Guarda quello che si è appena accorto Che sono qua Sì amico Sono proprio qua Aspetto proprio te Non sto aspettando altro Amico Ehi Guardate Sto volando Sto volando No in realtà Non so per quale motivo I blocchi si buggano E diventano completamente invisibili Quindi non sto Effettivamente volando Sono sopra un blocco Sono sopra una Un enchanting table In realtà Allora sentite cosa Io gli tiro una freccia Giusto per fargli capire che sono qua Ecco Se ne è accorto Dai kiwi Non aspetto altro Veramente Non aspetto altro Aspetto soltanto che tu Venga nella mia isola E caschi nella trappola Come un pollo Come hanno fatto tutti gli altri Come hanno fatto I tuoi predecessori Perché io già ne ho vinte due di fila E ora sei morto E ora sei proprio morto E sei morto Che cosa credi di poter fare Credi di potermi uccidere in questo modo Credi che facendoti questa scalinata qua Tu mi Oh no no Aspettate ora c'è l'arco Ok Uh per fortuna che c'era l'acqua ragazzi Mi sono salvato veramente per un pelo Appena provo a salire ragazzi Tu 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 Questo va giù Questo va giù come un pollo Guardate Ora ora Tra poco Guardate 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 come va giù Guardate come va giù E ho vinto No Alla gai Il lag l'ha salvato Il lag lo ha salvato ragazzi Ora c'è un enderpearl Lui è convinto Di essere più furbo Dice Uh guarda ora c'è un enderpearl Ora con l'enderpearl Questo lo trollo 100% lo trollo Sì 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 Mi trolli proprio Guarda Guarda come mi trolli Guarda come mi trolli Lo vedo Lo vedo come mi stai trollando Ho buttato l'enderpearl Oh mio dio che volo Mi sono salvato nell'acqua Aspettate ragazzi Sono salvo nell'acqua invisibile Sono salvo Nell'acqua invisibile Lui non ha la minima idea Che ci sia quest'acqua qua Lui non lo sa Lui non lo sa Ora lo sa Ora lo sa L'ha appena tolta L'ha appena tolta E mi ha pure frecciato Sì L'ha tolta Non l'ha tolta Mi sta frecciando Mi sta bombardando Mi sta bombardando Di frecce ragazzi Vuole riempire La mia acqua di frecce Per farmi cadere Ma non ho capito niente Io sto risalendo Intanto Io sto Sto venendo a prenderti Sto venendo a prenderti Tu che sei convinto È caduto È caduto Ho vinto Ma perché Non ho tolto L'acqua Non capisco Forse non avevo blocchi Forse non avevo blocchi Per togliere l'acqua Ragazzi È o non è fantastico Il fatto che sono riuscito A vincere Tutte quante Le Skywars Con quel semplice Trucchetto Secondo me È pazzesco Spero vi sia piaciuto Questo video Ovviamente lasciate un mi piace E condividetelo Con i vostri amici Soprattutto Seguitemi su Instagram E su Twitter Che troverete il link qua sotto Nella descrizione Da Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao